Sindaco Luciani, la questione Palazzo Sirena resta sempre attuale, ora anche delle firme come l'architetto Fuxas e anche il professor Sgarbi si sono un po' allineati alle richieste del comitato, firmando la petizione per il non abbattimento. Lei cosa replica? Io replico che non dubito del fatto che siano due grandi personaggi, ma non mi è sembrato di riceverli. O mi è sfuggita questa cosa, ma non sono mai stato interpellato da questi personaggi, non li ho mai visti vedere fisicamente il Palazzo Sirena, quindi la cosa mi fa sorridere. Si va avanti quindi con l'iter per l'abbattimento del palazzo? Noi non ci siamo fermati neanche un secondo, non è la nostra abitudine perdere tempo con le parole, ma fare i fatti e quindi l'iter va avanti, la piazza Sirena verrà ristrutturata, come abbiamo già ampiamente detto alla città, questa cosa ovviamente non la potrò fare nel mese di agosto per ovvie ragioni, perché oggi è splendidamente frequentata da tanti turisti, però a settembre appena si potrà, insomma, si avvieranno i lavori, che tra l'altro sono stati già giudicati e c'è già una ditta che ha avuto la giudicazione definitiva dei lavori, quindi è tutto pronto. Dicono che questo abbattimento è del tutto inutile, le cosa replica? Dico che chi dice questa cosa non conosce appunto minimamente come stanno i fatti, non hanno studiato questa situazione per sei anni come ho fatto io, penso di aver dato già ampia dimostrazione di approfondire tutti gli argomenti, sono pronto ancora al dialogo e all'approfondimento, chiunque vuole venire a trovarmi il tavolo è qui, le carte sono qui, vuole parlare con me lo può fare, quindi darò tutte le risposte che cercano.